Salve ragazzi, io sono OTG e benvenuti in questo nuovo video. Visto che qualche giorno fa Junior Kelly ha pubblicato su YouTube il video del brano Tutti con me, in cui mostra la faccia, e di conseguenza mi è venuta l'idea di fare un video in cui mostro tutte le maschere di Junior Kelly. Prima che inizi il video saluto. Dark Maul, FAP, Skype, YP, Peter, Campan, Animali, Satana, Antisamole, Pestarino, Christian Massa, Esplosivo, 8, Facchiosci, Gabriele, Scotti, 35, Mattiate, Tatmo, RRG, Elena, Zampieri, La Luce Magnatera, Matteo, Faretta, Gabriele, Di Lorenzo, Federo, Madero, 6 e Stop Snitching. Per chi vuole essere salutato me lo faccia sapere sotto nei commenti. Detto ciò, buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Fatemi sapere sotto nei commenti quale è la vostra maschera preferita Il video termina qua Seguitemi sul mio profilo instagram Link in descrizione E niente Iscrivetevi al canale Lasciate like Commentate Mi raccomando E noi ci becchiamo Alla prossima No, quindi esco oggi Ho un piano logico